Adesso, ringraziandolo per la partecipazione, lascio la parola al segretario del Partito Comunista di Grecia, al compagno Dimitris Kuzubas. Cari compagni, cari compagni, a nome dei comunisti di Grecia mandiamo un saluto caloroso e combattivo ai comunisti d'Italia, al Partito Comunista e al fronte della gioventù comunista che stanno conducendo la battaglia per le elezioni europee. Il Partito Comunista di Grecia da tanti anni collabora con il Partito Comunista sia a livello bilaterale sia all'interno dell'iniziativa comunista europea dove partecipano 30 partiti comunisti e operai di Europa. Siamo molto felici di aver avuto l'occasione di contribuire alla partecipazione del vostro partito alle elezioni in tutto il Paese. Dimostrando in pratica che i nostri partiti contro la corrente della contrarivoluzione e dell'opportunismo restano ancorati ai principi della solidarietà internazionalista e del internazionalismo proletario. Compagni, il 26 maggio daremo un grande battaglia in comune contro l'Unione Europea e i governi antipopolari contro questo centro imperialista europeo che è uno strumento del grande capitale europeo per aumentare i suoi profitti e garantire la sua sorvanità. L'Unione Europa capitalista non serve e non potrà mai servire alla esistenza del popolo lavoratore. Da tanti anni diverse forze della socialdemocracia ed ex comunisti cercano di convincere i popoli che l'Unione Europea e il sistema capitalista possono essere riformati in direzione popolare e possono essere democratizzati e umanizzati. Ormai basta questo tentativo inutile. L'Unione europea può solo peggiorare, non potrà mai migliorare. I governi borghesi dei paesi dell'Unione Europea applicano le stesse direttive, governi di destra, della sinistra o del centro e attaccano insieme i lavoratori con le politiche antipopolari. Peraltro nel Parlamento europeo il 90% delle decisioni viene votato da tutti quanti in comune. in Grecia il governo Syriza che era stato molto pubblicizzato in tutta l'Europa e anche in Italia ha smentito ogni aspettativa. Hanno governato insieme con una parte dell'estrema destra, ha applicato una feroce politica antipopolare, una politica di classe che ha irraforzato gli industriali e gli armatori, dissipando il reddito dei lavoratori e degli strati popolari e ha ridotto il diritto allo sciopero. Nel stesso momento, insieme al partito di destra, nuova democrazia, i l'alti partiti borghesi transformano il paese in un enorme cazzerma nato-americana. Tsipras sta flertando con Trump en Etanakiu che assassina il popolo palestinese. I lavoratori e gli altri strati popolari in Grecia, in Italia e negli altri paesi possono con la loro lotta e il loro voto il 26 maggio riuscire a dare una botta all'attuale rapporto di forza negativo che esiste a livello europeo e nazionale. Possono garantire le condizioni per il rafforzamento della lotta per i diretti operai e popolari, per la conquista sociale e democratice, per aprire la via per l'Europa del socialismo che garantirà il diritto al lavoro, i diritti sociali, il reddito e il futuro dei lavoratori. La classe operaia d'Italia ha un interesse a sostenere anche con il proprio voto la riorganizzazione e il rafforzamento del suo partito, del partito comunista. Dopo tanti anni i lavoratori possono di nuovo riempire le urne con la falce e il martello. Il simbolo che ancora oggi crea brividi alla classe borghese e per questo in diversi paesi cittadini d'Europa lo mettono fuori legge. Cari compagni, cari compagni, mancano pochi giorni fino alle elezioni e noi comunisti dobbiamo fare di tutto per portare il nostro messaggio di lotta in ogni casa popolare e operaia in Italia e in Grecia. Lottiamo contro la povertà, lo sfruttamento, la disoccupazione, le forme flessibili di lavoro, l'aumento dell'età di pensionamento, contro la merchificazione dell'istruzione e della sanità, contro il divieto di siopero, contro la repressione, il nazionalismo, il fascismo e il razzismo. Siamo contro la Nato, contro le basi americane e della Nato, contro la trasformazione dei nostri paesi in trampolino di lancio per nuove guerre imperialiste che creano morte per i popoli e profughi. Quelli che oggi tengono nelle loro mani il comando del potere, dell'economia e della politica che possono essere rappresentati da governi di finta sinistra come in Grecia o di destra come in Italia non regaleranno niente ai lavoratori. Quello che hanno ottenuto i lavoratori, quello che hanno ottenuto i popoli, l'hanno ottenuto con la loro lotta. I partiti comunisti erano e sono nell'avanguardia delle lotte per le conquiste popolari. L'indebolimento dei partiti comunisti dopo i rovesciamenti contro rivoluzionari nell'Unione Sovietica e negli altri paesi socialisti ha portato l'arretramento del movimento popolare e all'abolizione di conquiste storiche della classe operaia. Questa situazione deve essere ribaltata. La classe operaia, i popoli hanno la forza, possono e devono girare le spalle alla corrente borghese, ai partiti nazionalisti e ai partiti fascisti e nazisti che cercano di sfruttare l'ansia popolare e i problemi popolari per intensificare le loro forze come punta di l'ansia dell'abitatura del monopoli. L'astenzione non è la soluzione perché il giorno dopo le elezioni viene dimenticata. Devono sostenere i partiti comunisti che rappresentano la reale risposta popolare sia al cosmopolitismo sia al nazionalismo. Solo dalle lotte dei lavoratori e dal rafforzamento dei partiti comunisti può sorgere la prospettiva di un'altra Europa. Un'Europa della prosperità dei popoli, del progresso sociale, dei diritti democratici, della collaborazione, della pacchia, del socialismo attraverso lo svincolamento dagli organismi imperialisti dell'Unione Europea e della Nato con potere operaio popolare. Ogni voto per i partiti comunisti ha le elezioni europee e un contributo al rafforzamento della lotta comune dei nostri popoli. Viva il partito comunista in Italia! Viva l'amicizia e la collaborazione fra il partito comunista di Grecia e il partito comunista! Viva l'internazionalismo proletario! Viva l'internazionalismo proletario! Non c'è vittoria, non c'è conquista senza un grande partito comunista! Non c'è vittoria, non c'è conquista senza un grande partito comunista! Non c'è vittoria, senza un grande partito comunista!